Un'arte corporale di sicuro, perché al fine non stai solo scrivendo, fai il gesto che tu fai, che poi lascia un segno sul telo, sul uro. Addirittura adesso sto cercando di studiare questa cosa con un maestro di Shatsu proprio per farmi osservare mentre scrivo soprattutto sulle pareti grandi dove usi assolutamente tutto il corpo con dei gesti molto più ampi per capire dove sbaglio e dove invece posso migliorare. Non è tutta una questione di tempo, è una questione di competenze, di professionalità. In Italia in generale far valere la professionalità è difficile perché trovano sempre qualcosa di più economico e non pensano alla qualità. Quando parlavo con la gente dicevo, ma sto studiando calligrafia, era matematico che sgranassero gli occhi e dicevo una cosa. Adesso mi sento di aver fatto un po' di lavoro io e un po' tante altre persone, parlare di calligrafia non è più così assurdo. La scrittura è una cosa che ha una storia infinita. Molto spesso vengo chiamato artista, ma io mi sono sempre sentito un po' di più un artigiano. Quando attacchi una tela bianca è importante cominciare. Poi incominci a vedere cosa ci può essere a destra, a sinistra, in alto e in basso. E fai un po' una lotta con gli spazi, con le proporzioni. La gente magari che è lì a vederti pensa che tu sei una specie di computer che va in automatico. In realtà stai sudando freddo perché non sai come andrà a finire. Però è una bella sfida. In realtà stai sudando freddo perché non sai come andrà a finire. In realtà stai sudando freddo perché non sai come andrà a finire.